Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Cami qui con voi, oggi è lunedì, lunedì è la giornata dell'analisi dei mercati finanziari, analisi ciclica e analisi tecnica, ma oggi ragazzi è anche il giorno fatidico dell'alving di Bitcoin perché questa notte, in realtà sarebbe domani perché per questioni di ore, perché questa notte Bitcoin farà il suo halving, il suo halving e quindi tutto cambierà da un punto di vista della struttura della blockchain, quindi fondamentali Bitcoin per i miners e quant'altro, ho fatto due video super potentissimi che sono andati alla grande ragazzi, quindi non posso che ringraziarvi anche per i vostri like e per le vostre condivisioni, quindi grazie a tutti, per chi di voi non sapesse ancora cos'è l'alving, trova questi video, me li metto anche in descrizione di questo video qui, può andarseli a spulciare per capire quello che accadrà questa notte su Bitcoin, ma nella stessa giornata di ieri, se non sbaglio l'altro ieri, Bitcoin ha fatto un suo dump ragazzi e l'ha fatto perché siamo comunque in prossimità di una scadenza ciclica mensile di cui vi avevo parlato la scorsa settimana, ma c'è anche da dire che Bitcoin sta complicando un po' il tutto, perché comunque in una fase anche delicata ragazzi come questa dell'alving bisogna stare un po' con i piedi per terra, è vero sì, andiamo a fare l'analisi ciclica, adesso vi dirò in questo video quello che sta facendo secondo me, con le due view classiche che ormai costruiamo, però ricordatevi che magari oggi e domani sono giornate un pochettino di volatilità, quindi un po' insomma bisogna stare con i piedi di piombo in questa fase. C'è anche un altro strumento finanziario che guarderemo oggi che è esattamente l'S&P 500 ragazzi, perché? Perché l'S&P 500 in questo momento è in fase di leggera contrazione dopo il tentativo di superare i precedenti massimi fatti la scorsa settimana, non ci è riuscito al momento, ma non è detta l'ultima parola, ma vi farò vedere su S&P 500 quello che è una figura in questo momento che è un pattern di prezzo ragazzi e ve lo farò vedere alla fine del video, se poi lo confermerà potrebbe essere anche un'occasione insomma di trading short relativamente all'S&P 500 perché sta formando questo pattern di prezzo, quindi oggi facciamo questo video super tecnico per traders e investitori lungiminanti, analisi ciclica su Bitcoin e su S&P 500 per quanto riguarda i mercati azionari, ho detto tutto ragazzi tranne una cosa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e tirate su i pollici ragazzi per questi video di analisi che sono pieni di contenuto e che contribuiscono per ognuno di voi anche al poter tradare in maniera un po' più semplice, in maniera più tranquilla anche sui mercati, quindi adesso è arrivato, spostiamoci sui grafici ragazzi, ok andiamo sui grafici, ok ci sono ragazzi, vi ho dato gli occhiali come sempre, Bitcoin davanti, le pubblicità di TradingView perché mi hanno disattivato di nuovo il account pro, non si sa perché ogni tanto fanno questa cosa qui, va bene ragazzi, ero disposto anche la mia immagine perché voglio stare in basso oggi, va bene, allora ragazzi Bitcoin andiamo a fare il punto della situazione, allora quello che vediamo, intanto vi ingrandisco e vado un po' spedito ragazzi, altrimenti veramente escono video enormi quando facciamo questi di analisi, quello che dobbiamo vedere qui ragazzi è questo, allora tecnicamente il mercato dovrebbe andare a comporre un ciclo ragazzi di natura mensile che va in chiusura esattamente il 16 di maggio, perché ragazzi? Perché l'ultimo minimo era iniziato appunto il 16 aprile, quindi se noi facessimo un riferimento al ciclo di Bitcoin come un mensile perfetto da 30 giorni dovremmo avere questo tipo di andamento, in questo caso ragazzi il mercato quindi Bitcoin stesso sta facendo effettivamente questo andamento qui, ora il problema dove sta ragazzi? Il problema sta se questo ciclo mensile effettivamente arriverà il 16 maggio oppure si raccorda tra virgolette con il ciclo mensile di S&P 500 che vedremo tra un poco che dovrebbe portarlo a fine mese di maggio, ma qual è adesso il dubbio della situazione? Qui potrebbe essere stato fatto metà ciclo mensile e in questo caso adesso vi cambio il colore, vi rimetto il mio classico azzurrino che mi piace di più, allora vedete o ha fatto questo ragazzi e qui siamo nella seconda parte per andare poi in chiusura nel suo ciclo e adesso vi dirò anche che questa figura in questo momento è negativa per Bitcoin, ragazzi lo vedremo tra un istante proprio, oppure il mercato sta facendo un'eccezione e quindi in questo caso ha fatto un mensile chiuso nella giornata di ieri e molto più corto perché deve andare a fare un ternario ragazzi fatto così, ma lo vedremo tra un attimo, facciamo, lo so che ragazzi non voglio complicarvi la situazione quindi cerco di fare un ragionamento per volta, allora iniziamo da quella che è la situazione più comune, la più semplice, la più standard ragazzi, cioè il fatto che qui il mercato Bitcoin abbia fatto un nuovo ciclo, la metà del ciclo e quindi qui si è iniziata la seconda parte che poi andrebbe in sua naturale conclusione, vi faccio anche il disegnino qui, quindi saremmo in questa fase di chiusura di questo ciclo mensile di Bitcoin che dovrebbe continuare fino al 16, quindi 5 giorni, se così fosse ragazzi questo movimento di pump che vedete nella giornata di oggi ha esattamente cosa? Ha la vita quindi contata, ha in pratica i giorni contati perché non può fare nuovi massimi, quindi se questo pump di oggi lo vedremo insomma tra un po' fa nuovi massimi allora dovremmo sposare l'altra view che vi dico tra qualche minuto. Se questa invece view che abbiamo visto adesso, cioè che siamo nella seconda parte del ciclo mensile che sta andando in chiusura, il 16, dovesse essere quella corretta di Bitcoin e lo vedremo tra poco, questo pump non ha molti giorni davanti, perché ragazzi? Perché è un pump che deve in sostanza andare a fare, vi faccio vedere, nuovi minimi, ok? Purtroppo c'è da dire questo, perché? Perché vedete qui ragazzi il mercato ha rotto i minimi precedenti, quindi se qui siamo nella seconda parte questo è il movimento di attesa del mercato. Ora ragazzi c'è l'alving in mezzo, c'è tutto questo ambaradan che dobbiamo tenere in considerazione, perciò io andrei come vi ho detto prima con i piedi di piobbo in questi giorni sui mercati, questa che vedete è la view più comune, quella più probabile tecnicamente se tutto viene fatto secondo i canoni classici, quindi tutto rispettato alla lettera, ma non è che Bitcoin ragazzi faccia sempre tutta questa precisione, tutta questa perfezione teorica e allora dobbiamo anche valutare la seconda ipotesi, cioè l'ipotesi che qui su questo minimo di ieri si sia chiuso un ciclo mensile più piccolo, perché dico questo ragazzi? Perché su questo punto il mercato ha fatto comunque un bel rimbalzo, una bella discesa ragazzi, no rimbalzo, una bella discesa e avendo fatto un bel ribasso potrebbe anche aver accorciato il ciclo mensile e in questo caso dovremmo sposare questa view ragazzi di tre cicli così composti che vandrebbero poi in chiusura a fine mese di maggio insieme al S&P 500, lo vedremo tra un poco e sarebbe un atteggiamento ternario così come lo disegnate, quindi come l'ho disegnato ragazzi e in questo caso questo rimbalzo potrebbe anche tentare di rompere i massimi precedenti prima di andare in fase di chiusura e soprattutto, cosa più importante, non avrebbe vincoli ribassisti, per l'analisi ciclica questo significa che questo minimo non vincola il movimento a scendere, perché siamo in un nuovo ciclo maggiore, quindi una nuova parte, un nuovo ciclo mensile corto, chiamiamolo così e quindi da qui in poi non è detto che il mercato faccia nuovi minimi, una delle due sarà quella giusta ragazzi, assolutamente non è possibile che il mercato faccia nuovi movimenti. Cosa faccio io e cosa ho detto nell'Academy ai ragazzi poco fa, quindi questa mattina prima di fare questa operazione? Un'operazione di trading segnalata in Academy questa mattina long da 8.750 ci potrebbe stare, ma per trader proprio speculativi ragazzi che fanno intraday, quindi qualcuno dirò che magari l'ha fatta, sta in profitto, ma è già in trailing stop perché c'è questa ipotesi che il mercato vada in close del mensile ai 16 di maggio prossimo. Però ragazzi allora bisogna tenersi un po' a due pali, quindi chi di voi magari è un trader bello evoluto dovrebbe essere già long in questo momento perché il mercato ha dato un segnale di inversione di brevissimo periodo, quindi il segnale long è stato dato da Bitcoin, però dovrebbe anche rendersi conto che la ciclica in questo momento ci dice attenzione perché è una fase molto rischiosa per i long perché se andiamo in close del 16 il mercato potrebbe fare nuovi minimi tra pochissimo, ma anche ragazzi se siamo nella seconda parte diciamo in questo mensile corto che andrà ad allungare i tempi fino a maggio, può essere anche che non faccia nuovi massimi, ma tenti di fare nuovi massimi ma non ci riesca, quindi nell'uno e nell'altro caso c'è molto pericolo per la fase long, quindi bisogna stare attenti, entrare sicuramente sì perché noi seguiamo sempre il trend ragazzi, ricordatevelo questo è fondamentale, al di là di tutte le analisi bisogna sempre seguire il trend, però insomma ragazzi consideriamo la rischiosità di questa fase, l'analisi ciclica ci aiuta proprio in questo, quindi quello che io faccio in questo momento molto difficile è seguire sempre i miei trading system, trading system che è, sono flat già dai 9500 ragazzi, quindi sono fuori dal mercato, non so se rientrerà a long, ma se rientrerà a long io lo seguirò, short non vado come sempre sapete, in questo momento non vado short. Spostiamoci su SP500 ma volevo farvi una piccola parentesi conclusiva per quanto riguarda l'analisi di bitcoin, c'è da analizzare anche l'analisi di lungo periodo di bitcoin, quella del ciclo annuale, molti di voi mi hanno fatto una serie di domande su questi video, ma non doveva fare nuovi minimi, ma il ciclo annuale, ragazzi, il ciclo annuale di bitcoin ancora non ha preso una direzione, quindi non sappiamo se effettivamente il ciclo annuale di bitcoin può essere ritenuto come iniziato a marzo o a dicembre, perché ancora il mercato non ha superato la fatidica soglia di 10500, questo lo vedremo e approfondiremo tutto quello che riguarda questa fase dopo l'harding, perché voglio dare il tempo al prezzo ragazzi di fare quello che sta tentando di fare, quindi di schiarirsi le idee in questo momento per poi decidere dove andare ragazzi, quindi inutile fare una view di una fase di lungo periodo adesso che siamo anche in preda a questi meccanismi. Andiamo invece a vedere l'SP500, ragazzi, vi faccio vedere, come vedete ancora di nuovo questa pubblicità di TEDINVIO speriamo che risolvano a momenti. Allora ragazzi, SP500, anche lui, vedete, questa è la mia attesa di SP500, di chiusura di questo ciclo da 65 giorni, che è un trimestrale corto per quanto riguarda l'SP500 ed è in fase di chiusura, dovrebbe arrivare verso la fine di maggio. E qui il mio dubbio con quello che vi ho detto su Bitcoin. È vero che non sono sincronizzati anche qui, ragazzi, apriamo una parentesi, ho fatto un video sulla correlazione tra i mercati old Bitcoin, ma lo riprenderemo perché vedo che ci sono ancora dubbi su queste cose. Io vi ho già spiegato che sono correlati per un periodo, ma non sono correlati nel lungo periodo, quindi è importante capire questa cosa, ho fatto un video a tal riguardo, ne rifaccio un altro in settimana perché ho notato questa problematica per molti di voi, non hanno capito questa cosa o non hanno visto il mio precedente video. Allora, se questo ciclo di SP500 dovesse essere già nella sua seconda parte, dovremmo avere, vedete, questo tipo di atteggiamento per quanto riguarda i mercati americani, per quanto riguarda SP500. E come promesso, adesso vi faccio vedere questo pattern che sta disegnando in questo momento SP, perché lo sta disegnando proprio su questa candela di questa giornata, quindi potete in effetti anche utilizzarlo. Questo pattern si chiama Gatekeeper, ragazzi, non l'ho inventato io, chiaramente, ed è da utilizzare con i livelli di Fibonacci e di David Landry, quindi non è mio ovviamente. Allora, cosa dice? Dice che qui è stato fatto un massimo, qui il mercato ha iniziato una fase di discesa, molti non ci hanno creduto, a un certo punto si rimbalza e si rimbalza fino ai livelli di 0.78 e 6 di Fibonacci e da qui in poi il mercato può iniziare a prendere effettivamente la pista ribassista. Questo atteggiamento si ha in conferma del break della candela di oggi ed è un pattern di prezzo, di price action, ragazzi, molto bello, che funziona molto bene sui mercati old. Se vi interessa questo tipo di discorso ci faccio una lezione proprio su questo pattern e lo mettiamo nel mio corso gratuito che è presente qui, ragazzi, su YouTube ed è il corso come fare holding, ragazzi, ma l'ho spiegato tante volte e lo mettiamo lì tra questi esercizi. Quindi se vi interessa questo pattern, quando si verifica, quando si conferma, quando il minimo della candela di oggi di S&P 500 viene rotto a ribasso. Se lo fa diventa un ingresso short, vedete, che potrebbe andare a fare nuovi minimi al di sotto dei precedenti e dare quindi spazio a un trading intraday di qualche giorno. Questo è un gatekeeper perfetto perché è andato a impattare con il livello di Fibonacci di 0,78 e 6. Quindi è perfetto, ragazzi, e va un po' anche a coincidere con quella che è la ciclica della S&P 500 che dovrebbe indicarci una fase di debolezza da qui in poi. Potrebbe ancora però tentare nuovi massimi, per questo vi ricordo sempre di attendere la conferma di un pattern. Non lo tradate senza che ci sia una conferma, ma poi potrebbe andare a fare questo tipo di andamento. Questo è quello che ci dice in sostanza anche la ciclica sui mercati azionari. Quindi, ragazzi, vi ho detto tutto, video lunghissimo, mi dispiace, ma quando si fa analisi ciclica bisogna prestare attenzione su una serie di numeri. Noi ci rivediamo in settimana con il prossimo video dove andranno i mercati. Iscrivetevi anche la vostra opinione, come sempre, all'interno dei commenti. Va bene, ragazzi, vi ringrazio di nuovo. Buon inizio settimana. Ciao, anzi, e buon halving a tutti. Ciao a tutti.